Siamo un paese ossessionato dall'immigrazione che quando vede una faccia nera alza le barricate. È come se usassimo un piede per schiacciare l'altro piede e poi ci lamentassimo di quanto è difficile camminare. Siamo un paese ossessionato dall'immigrazione dove un medico nero a Fagnano Lona nel Varesotto è stato costretto ad andarsene perché alcuni cittadini lo hanno insultato per il colore della pelle e ora l'intero paese è rimasto senza medico. Complimenti vivissimi! Siamo un paese in cui quasi tutte le battaglie politiche provenienti da destra vedono gli immigrati in qualche modo responsabili. Matteo Salvini ci campa da una vita rilanciando fatti di cronaca, non tutti veri, e Giorgia Meloni ha imparato prestissimo. L'ossessione dell'immigrazione è un disturbo dell'attenzione politica che però garantisce consenso. Per guarire dobbiamo imparare a disinnescare perché se non lo faremo le persone continueranno ad affogare in mare e dall'altra parte del Mediterraneo il nostro paese sprofonderà, collassato da un'ossessione che si chiama creazione del nemico.